Ecco così parte, benissimo. Siamo ad Avano, Pezzase e stiamo partendo per il rifugio Cascinelle. Sono con Alessandra ed Erika e i cani che... Oh cancella, Alessandra, sei contenta di fare questo giretto? Contentissima, contentissima. Erika tu non sei mai stata al rifugio Cascinelle. No, no, sono stata solo al rifugio Cascinelle, con le sanninelle. Luna! Ci sono le galline. Il tempo non è uno dei migliori però. Ecco le belve. Cielo non è particolarmente bello, però l'importante è che non piova. Tutto bene? Oggi non danno pioggia. Alessandra, Erika. Tutto bene, tutto bene per adesso. Oggi non è tutto bene, tutto bene. È una cosa sia. Ciao. Oggi non è troppo questo giretto? Inoltre non è troppo questa? Ragazze! Devo andare a Guglielmo. Aspetta che vedo. Vediamo il Guglielmo e le nostre escursioniste sulla strada per il rifugio. Il Guglielmo e il Guglielmo. Guglielmo e il Guglielmo. Guglielmo e il Guglielmo e il Guglielmo. Il Guglielmo e il Guglielmo. Guarda che meraviglia. Ah, c'è la telecamera. Non ci posso credere. Credici. Guarda ci sono ricavrette. Guardali come guardano i tuoi cani. Guarda che vediamo il giro. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti